dopo essere stato a pescare show 2019 avrei visto quella mega vasca mi è venuta l'idea di farne una barra 2 nel mio giardino dei mini pond da 300 litri e se funziona una vasca da 9.000 adesso andiamo a cercarle al mercatino dell'usato se li utilizziamo a trovare qualche base siamo al mercatino dell'usato ragazzi adesso andiamo a trovare se riusciamo a trovare un contenitore di plastica per fare il mio mini pod in giardino bene trovati saranno 250 300 litri adesso devo stare attendo che non siano bucati per 13 euro ci stanno tutti adesso vado a comprare come ho detto ragazzi sono da prenderlo che solo per essere marzo allora un po lo metto qui vedete 300 litri e inizierò con questo invece più avanti se questo funziona perché devo provare qua ho già messo le basi vedete i paletti con il filo diventerà 9 mila litri e più o meno 3 per 3 per 1 9 mila litri adesso vediamo che combiniamo adesso devo trovare qualcuno che venga a scavare per mettere questa cosa qua e poi vediamo che succede la prima cosa da fare ragazzi posizionare la vasca puoi metterci la farina buona si è arrabbiata allora metto la farina non il gesso perché bemi cani se vengono a sniffare il gesso stanno male con la farina così avrò esattamente la forma di del buco che devo fare non devo scavare di più e piano piano sta prendendo forma adesso ragazzi mi devo fermare perché c'è un po di mal di schiena ciao cane ciao ciao ragazzi il lavoro procede questa è la prima puntata mi raccomando lasciate un like campanellina un saluto da full timer pesca ciao